Una complessa attività di vigilanza sulla filiera della pesca all'interno del compartimento maritimo di Milazzo ha permesso di individuare e segnalare attrezzi da pesca illegali dal forte impatto ambientale. Il servizio è di Mariella Musso. È stata condotta un'attività di vigilanza abbastanza complessa sulla filiera della pesca coordinata dall'undicesimo centro di controllo area pesca di Catania. L'attività si è svolta la scorsa settimana all'interno del compartimento maritimo di Milazzo finalizzata al controllo e dal contrasto alla pesca illegale. È stata accertata la presenza di 106 FAD cosiddetti cannizi dispositivi di concentrazione delle specie ittiche che sono successivamente catturate con i sistemi di reti da pesca a circuizione mancanti dei previsti sistemi di identificazione e segnalamento per di più realizzati con materiali non conforme alle norme nazionali ed europee in materia di pesca ovvero non biodegradabili. Sono state combinate sanzioni pecuniarie per un totale di 8.000 euro oltre al sequestro di circa una tonnellata di materiale plastico che rappresenta un pericolo per la sicurezza della navigazione ed un'onta alla tutela dell'ambiente marino e costiero. L'attività è stata condotta dall'equipaggio della guardia costiera imbarcato sull'unità navale maggiore CP404 Gaetano Magliano con il coinvolgimento della Sea Shepherd Italia Olus, organizzazione senza scopo di lucro che si occupa della salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti marini.